Mi chiamo Audrey Ngongel, sono tricologa, artista dei capelli e scrittrici. Come sempre, se è la prima volta nel mio canale, ci auguro il benvenuto o la benvenuta. In questo canale il mio scopo è di trasmettere delle informazioni sulla salute in generale, sulla forma fisica e sulla nutrizione, anche perché questi tre elementi e anche altri sono collegati con i due organi di cui sono specializzata, il cuoio capelluto e i capelli. Se non lo sai, la figura del tricologo è colui che è specializzato nel cuoio capelluto e nelle varie perdite di capelli ed è ciò che faccio. In questo canale non intendo sostituire una consulenza professionale medica, nemmeno una diagnosi, senza parlare di un trattamento sulla salute. Perciò ti suggerisco se intendi fare un cambiamento, una modifica nella tua nutrizione, nella tua fitness e rivolgiti al tuo medico o a un consulente sanitario che, avendo i tuoi dati, i tuoi parametri, saprà che cosa è meglio per te. Nello stesso tempo, apro una finestrina per dirti che, quando il medico classico legge i tuoi valori, le legge a livello dei tuoi organi vitali, e quando il tricologo legge i valori, le legge in funzione alla salute del tuo cuoio capelluto e dei tuoi capelli. Di qui, in questo canale, se tu senti qualcosa, sei in dubbio, io posso essere l'avvocata dei tuoi capelli, essere la tua tramite tra te e tuo medico, perché si tratta della fisiologia. E poi, non preoccuparti se tu sei molto distante da dove sono, se non sei in Italia, in Europa, ovunque sei, oggi il mondo è planetario. Posso essere la tua tricologa virtuale, parlo tre lingue, il francese, l'inglese e l'italiano. Perciò, non disperare, in caso hai bisogno delle risposte, il mio numero è nel thumbnail di questo canale. Detto questo, l'ultima, la prima parte del video sullo stafilococco, avevo parlato delle varie tossine, delle malattie che crea, ed oggi continuo parlando di due tipologie di stafilococchi particolarmente. lo stafilococco aereo e lo stafilococco epidermis. Ma, voglio già dirti che tutti questi tre stafilococchi sono predatori, sì, sono calciatori. Vanno dove c'è una defiance, vanno dove hanno un'opportunità di inserirsi, di dominare, di controllare. Ed è quello che succede con questo predatore, perché lo stafilococco è un predatore della nostra pelle, è un predatore del nostro coio capelluto. Ripeto di nuovo, il coio capelluto è l'estensione della pelle del viso. Come fa questo predatore ad invaderti? Lo fa quando trova che la barriera cutanea oppure la barriera epidermica è compromessa. Come può essere compromessa? Può essere compromessa dai fattori esterni e dai fattori interni, ma già questo l'ho detto in vari video, basterebbe andare a cercare nei vari titoli. Quando poi trova questo predatore, questa defiance, una fissura, attraversa, attraversa le fissure e si siede, ti abita, ti abita, nel frattempo crea dei dolori, crea delle infiammazioni persistenti. Ma come lo fa? Questo stafilococco alreo va a rilasciare delle tossine. La prima di cui voglio parlare si chiama esotossina. L'esotossina è quella tossina che va a danneggiare le parete della nostra pelle, danneggiando la molecola che ha ancora le cellule della pelle. Detto questo sembra complicato a capire, te lo spiego brevemente. Supponiamo, questo è il blocco di cemento, stai costruendo la tua casa. Allora, prendi questo blocco di cemento, ancora con questo blocco di cemento, tra tutti i due blocchi di cemento, metti un po' di cemento all'interno. Quello cemento all'interno che ha ancora questi due blocchi di cemento, si chiama desmocleina. È una molecola. E cosa fa lo stafilococco? Lo stafilococco danneggia questa barriera. Una volta la barriera danneggiata, la nostra pelle è completamente dislocata. La nostra pelle non c'è più. Utilizziamo l'espressione, non regge più, non c'è più in piedi, perché la sua molecola se n'è andata. È una malattia molto difficile. Poi abbiamo un'altra tossina, e quella è più velenosa. Si chiama enterotossina. E cosa fa l'enterotossina? L'enterotossina si attacca al nostro sistema immunitario. immunitaria lo paralisa. Una volta che la tossina arriva, perché il nostro corpo ha delle sentinelli, ha i guardi di corpo, come vedi tutte le grandi personalità, la nostra pelle è una personalità importante, di cui non cammina mai senza il suo protocollo. Però, come dicevo prima, quando questo protocollo viene un po' compromesso, cosa succede? Questa tossina, quando si avvicina, abbiamo le nostre antenne, e abbiamo le nostre cellule T. Le cellule T sono quelle cellule che sentono, sentono che c'è un invasore in arrivo. E lo fanno notare al nostro sistema nervoso, ma non ti porto lì molto lontano. Preferisco fermarmi nell'espressione la più semplice per capire a casa qual è la potenza che può avere un batterio, un microbo sul tuo capello, che non puoi nemmeno immaginare. Allora, cosa fa? Quando questa tossina, chiamata enterotossina, penetra la nostra pelle, paralisa il nostro sistema immunitario. paralisando il nostro sistema immunitario, continua il suo percorso. Quando tocca le nostre cellule T, le paralisa. Tocca i nostri antigeni, le paralisa. Però, abbiamo una delle nostre guardie di corpo che si chiama la titochina. La titochina fa parte del sistema sano e è lì per proteggere le nostre cellule sane. Comincia a rilasciare questa proteina. Solo che, mentre rilascia questa proteina per lottare contro la tossina, noi sappiamo già che la nostra barriera, la barriera del stafilococco è ben dura, di cui è difficile. Continua a fare i danni. Mentre continua a fare i danni, la titochina va in sopraproduzione. Come tutte le cose belle e brutte, quando vengono sopraprodotte, creano problemi. E questa titochina, in sopraproduzione nel nostro corpo, non solo manda in tilt il nostro sistema immunitario, ma va a creare delle erosioni cutanee, delle scottature solare, la febbre e spesso va a creare il malfunzionamento dei nostri organi. E' vero che questa situazione è un po' rara, ma quando capita è danosa ed è pericolosa. Poi, in 2017, il dottore Erick Scar, spero di aver pronunciato bene, il dottore Erick Scar, con la sua team, hanno sviluppato una molecola chiamata 883, perché hanno fatto tanti esperimenti, hanno capito che vediamo un po' questo stafilococco si potrebbe ralentare al sole, alla luce del sole. Allora hanno creato questa molecola e all'interno di questa molecola hanno inserito un'enzima e l'hanno attivata nello stafilococco aureo. Sapete, dietro ad ogni cura si parte sempre da quel microbo, si parte sempre da quel batterio. E, inserendo questa enzima, quando lo stafilococco è esposto alla luce solare, viene aniantito. Ed è quello che è successo con lo stafilococco. Ora ti parlo dello stafilococco epidermis. Parlando dello stafilococco epidermis, lo stafilococco epidermis può vivere nella nostra pelle per tutta la nostra vita senza causare alcun problema. Lo stafilococco epidermis produce dei acidi grassi e questi acidi grassi, e questa è la bella notizia, questi acidi grassi possono eliminare dei batteri sgradevoli dello stafilococco aureo e non solo, possono anche eliminare delle cellule tumorali lasciando quelle cellule sane. Ma qual è la problematica? La problematica con questo batterio, la pericolosità di questi batteri epidermi dello stafilococco, è che hanno una superficie plastica e questo crea dei problemi negli ospedali. Per esempio, quando si utilizzano i cateteri endovenosi, raccolgono questi piccoli esseri umani e li portano nei nostri vasi sanguini. E quando li portano nei nostri vasi sanguini possono fare un percorso sia diretto verso il cuore, il cervello e i polmoni, oppure fare un altro percorso un po' più lungo verso i muscoli, le articolazioni e i tessuti. Riguardando lo stafilococco epidermis c'è un gruppo di questo batterio che si attacca alla plastica. E come? Si attacca alla plastica grazie al suo biofilm, a un comodo biofilm che è una proteina e questa proteina ancora le batterie con la plastica. E ancorando questi due cosa succede? Questa proteina va a proteggere i batteri dal sistema immunitario e dagli antibiotici. E la guarigione all'infezione diventa difficile. Ci sono anche dei casi in cui potrebbe trattarsi di una minaccia per la nostra vita perché abbiamo detto quando si usano i cateteri endovenosi raggruppano questi piccoli esseri umani e questi piccoli esseri umani si ritrovano nei nostri vasi sanguini o darsi che si aggrappano alla valvola cardiaca prostesica. E' vero sono casi che con la tecnologia attuale degli strumenti utilizzati in ospedale sono molto più evoluti che possiamo considerare che il percentuale sia di un percentuale. ma in conclusione questi microbi questi batteri sono innocui sulla nostra pelle però è all'interno del nostro corpo che c'è la pericolosità perché vanno a danneggiare il rivestimento del nostro cuore bloccare la circolazione del sangue e in certi casi creare l'ipsis. la conclusione di questo video è noi stiamo parlando dei capelli e dei capelli possiamo capire quante cose possono subentrare e vivere perché sino ad ora hai potuto capire le tossine dall'interno cosa fanno dall'esterno hai potuto capire i danni che fanno questi stafilococchi sull'epidermide il danno che fanno sulla pelle il danno che fanno nel derma il danno che fanno nei vasi sanguini e i danni sono tanti che se noi cominciamo a vedere tutte queste piccole cose che succedono intorno a noi e abbinarli a tre mesi che cosa è successo ricordatelo sempre quando noti una problematica sui tuoi capelli oggi stasera torna tre mesi fa che cosa è successo tre mesi fa abbina tutto e comincerai a capire la fisiologia detto questo nei prossimi video cercherò un po' di elaborare questo pigmento questo pigmento che ho in più sicuramente per rapporto a te mi auguro di no però questo pigmento che hanno gli esseri umani neri perché abbiamo gli esseri umani neri abbiamo gli esseri umani bianchi abbiamo gli esseri umani giali e in quel nel prossimo video ti spiegherò il livello di melanina che hanno gli esseri umani neri il livello di melanina che hanno gli esseri umani asiatici e qual è l'impatto nella neuromelanina qual è l'impatto nel nostro cervello perché la melanina non è solo quella che vedi sui capelli sulla pelle nei occhi abbiamo la melanina dappertutto e che cosa differenzia l'essere umano nero agli altri esseri umani di altro colore dove li porta la loro melanina perché ce l'hanno negli orecchi in modo in cui sentono la musica la melanina ce l'hanno negli organi ce l'hanno nel cervello questa melanina è anche nelle ghiandoli come tricologa il mio dovere è darti le giuste informazioni e cominciare a capire che molte delle cose non sono state dette riguardando la melanina perché molti studi non hanno approfondito lo studio sulla melanina riguardando la salute ed infatti molti dermatologi di colore bianco possono anche essere bravi però non hanno la preparazione sulla melanina e questo è qualcosa che va detto e questo è qualcosa che va capito una volta che capisci come funzionano certe cose se sei a casa e stai ascoltando questo video il prossimo sarà molto bello perché se sei un essere umano di colore nero capirai quante cose possono non solo danneggiare i tuoi capelli danneggiare la tua pelle danneggiare la tua vita questo sono fia chile ciao 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 Grazie a tutti.